Ciao Max, sono Silvestro Todisco, sono al terzo appuntamento dopo il MoMA e il MOBI. Sono qui per presentare il videoesame del GLAV, ovvero su un Ars Blues senza la pentatonica, come dice il titolo del corso. Il videoesame prevede lo svolgimento delle tre scale misolibili del solo e del 2 del re con i relativi arpeggi di settima di nominal in alcune posizioni del mando. Io ho scelto tre posizioni in particolare, al terzo tasto, al settimo tasto e al nono tasto. Successivamente farò ascoltare tre turnaround, il primo si basa sull'uso della scala mele suoni, passando per la scala dorica e gli arpeggi di to settima e settima. Il secondo turnaround utilizza dei bicordi, strettando le note target dei vari accordi e chiudendosi il turnaround con l'uso della scala pentatonica minore. Il terzo turnaround si basa sull'uso della misolibia, con dei salti di terza per dare più colore, e con un passaggio tensivo verso il quarto grado sottolineato da un arpeggio di sol semidiminuito, diminuito e poi ancora una volta, fortunatamente miscelati gli arpeggi di rosette in R7 in modo un po' più incolorito, e con una scala a nove suoni ancora una volta, si chiude il terzo turnaround. Io direi di partire a questo punto subito con le scale misolibie. Sottolinea Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto vediamo i tre turn around, come abbiamo detto, sulla base. Ti facciamo partire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccetera, eccetera. Questo è quanto, Max. Spero ti sia piaciuto. Ho cercato di essere molto rapido e, diciamo, concreto un po' per rispondere alle domande. Ripeto, spero ti sia piaciuto e di rivederci presto col prossimo corso. Un saluto caro da Silvestro Turisco, presto Max.